ciao a tutti ciao davide allora io è circa un anno e mezzo che sono un felice possessore di uno spike e diciamo in questo anno e mezzo sono un bassista più felice battute a parte devo dire che mi ha reso una vita bassistica migliore lo mostro tuttora con orgoglio ai miei colleghi bassisti ai fonici a tutti i musicisti che incontro orgoglioso di questo strumento di questo marchio e poi un'altra cosa penso che sia uno dei pochi marchi che dietro il marchio o anzi davanti ci sia una persona o delle persone che ci mettono la faccia e sono disponibili per tutto quello che tu hai bisogno e questo non si trova tutti i giorni un abbraccio a tutti